Ciao a tutti dal Tg regionale per sordi. I nuovi casi covid registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test, di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58%. Ieri il numero dei contagi giornalieri era stato 713 con un tasso del 3,4% su 20.981 test, 20 decessi di oggi. Sono riaperte sul portale regionale dei vaccini le prenotazioni per le persone che appartengono alle professioni sanitarie sottoposte a obbligo vaccinale. Possono prenotarsi solo gli operatori delle aziende pubbliche e private, i cui nominativi sono stati trasmessi dai datori di lavoro alla Regione Toscana entro il termine previsto. Le persone non incluse devono rivolgersi al proprio datore di lavoro per sanare la posizione. E' aperto nel pomeriggio la prenotazione del vaccino per coloro che hanno 61 a 62 anni. La Regione Toscana allarga la finestra, già presente sul portale, dedicata ai nati nel 1957 e nel 1958, aggiungendo anche i nati nel 1959 e nel 1960. Le somministrazioni per il 61 o 62 anni sono in programma da domani 11 maggio. Intanto la Toscana è al lavoro per definire l'accordo con i medici di medicina generale, che scenderanno in campo per affiancare gli hub vaccinali per la somministrazione del vaccino a coloro che hanno più di 60 anni. L'accordo fa sapere la Regione. È stato raggiunto ieri durante una riunione con le principali sigle sindacali. Le somministrarono per errore sei dosi di vaccino contro il Covid. Una 23enne è stata ricoverata in osservazione all'ospedale di Massa, provincia di Massa Carrara. La giovane è rimasta monitorata tutta la notte, non ha avuto sintomi né manifestato allergie. Dopo la somministrazione del vaccino, che è avvenuta ieri all'ospedale Noa di Massa, la giovane, che è una tirocinante in psicologia e quindi rientra tra le persone di ambito sanitario da vaccinare, è tornata a casa. Solo successivamente gli addetti alla somministrazione si sono accorti che le era stata iniettata un'intera fiala che corrisponde a sei dosi di vaccino. Richiamata d'urgenza al telefono, i medici hanno deciso per il ricovero. Togliersi la mascherina all'aperto, concordo con questa ipotesi, quando saranno raggiunti i 30 milioni, quindi la metà della popolazione target, con almeno una dose di vaccino. Bisognerà aspettare tre settimane per avere una buona protezione. Allora è chiaro che anche la mascherina all'aperto, dove non c'è assembramento, credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c'è assembramento e rischio. Lo ha detto il sottosegretario alla salute, Sileri. 8 mila metri quadrati di terreno diviso in una trentina di serre attrezzato con una tensostruttura per il ricovero di baracche roulotte adibite ad abitazione. E' quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti della Municipale di Prato, intervenuti nella zona di Tavola, insieme a Asl e Carabinieri. Una vera e propria impresa agricola, il cui titolare un cinese, è stato denunciato per abusi edilizi, violazioni in tema di sicurezza e per le pessime condizioni igienico-sanitarie. Elevate sanzioni per un totale di 500 euro. All'interno delle baracche c'era una cucina, provvista di tutto il necessario e posti letto. Questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Spedalino, ad Aliana, provincia di Pistoia, si sono svolti i funerali di Luana d'Orazio, la giovane 22enne operaia morta una settimana fa nell'azienda tessile di Oste di Montemurlo, provincia di Prato, dove lavorava. Oggi la bandiera del Consiglio regionale della Toscana è a mezz'asta, una giornata di lutto per ricordare Luana e tutte le vittime sul lavoro. Dobbiamo fermare questa strage silenziosa, servono più controlli, più formazione, più investimenti sulla sicurezza, ha scritto il Presidente del Consiglio regionale, Mazzeo. Ha iniziato a camminare in strada brandendo una catena con cui ha anche aggredito due passanti colpendoli senza motivo. Per questo un 25enne è stato denunciato dalla polizia. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Firenze, nella zona tra i giardini della Fortezza d'Abbasso e la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Il giovane originario del Bangladesh avrebbe ammesso di aver agito sotto l'effetto di droga. Le vittime dell'aggressione, sono due ventenni, hanno riportato lesioni non gravi. Oltre 50 tra manoscritti e opere d'arte provenienti da biblioteche, archivi e musei per ricostruire il rapporto tra Dante Alighieri e Firenze, dagli anni subito successivi alla morte del poeta fino agli anni 50 del 300. È onorevole e antico cittadino di Firenze il Bargello per Dante, la mostra che il Museo Nazionale del Bargello, in collaborazione con l'Università di Firenze, dedica al sommo poeta dal 11 maggio all'8 agosto per i 700 anni dalla morte. L'esposizione è articolata in sei sezioni. La Toscana resta sul podio delle bandiere blu. Il riconoscimento dell'ONG internazionale FII, cioè Foundation for Environmental Education, per le località con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente, ma perde però quest'anno un posto, infatti arriva terza. Al primo posto si conferma la Liguria, mentre seconda la Campania, con 19 bandiere. E vediamo ora alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Nuvoloso in mattinata, con piogge sui settori del nord-ovest, altrove invece fenomeni isolati. Nel pomeriggio peggiora il tempo, con precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale. I venti moderati, i mari tra mossi e molto mossi, e infine le temperature minime in lieve aumento e massime in sensibile diminuzione, soprattutto sulle province settentrionali. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti. Arrivederci.